Torna la grande satira sul web con la seconda edizione della rassegna Satiricom che quest'anno triplica l'offerta e si trasferisce alla Museocolonna di Pescara. Da venerdì a domenica incontri, workshop, mostre, reading e tanto altro dedicati non solo al mondo della satira su internet ma anche ai fumetti. Tra i big vignettisti di fama come Riccardo Mannelli, Mauro Biani e una mostra per celebrare i 20 anni di virus del leggendario Emilio Giovannozzi. In collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Pescara quest'anno Satiricom offrirà workshop con i maggiori interpreti della satira e della stand up del panorama italiano. Una serata di open mic con Saverio Raimondo, i nomi più importanti da Comedy Central Television, da Maurizio Capuano a Carmine Delgrosso e Mario Razza. Ma soprattutto tantissima comicità e umorismo web con nomi del panorama locale da Fabio Celenza ai 99 cosse fino a quelli più celebri al momento del panorama nazionale come, faccio per dire, Hermes Maiolica, il re delle bufale, Gianni il Malvagio e la sua Accademia dei Trolli, il signor Distruggere, Boom si è stato frenzonato, la parte strana dell'internet e tanti altri. Saranno oltre 30 gli appuntamenti che ci aspetteranno, tutti gratuiti. Tra l'altro l'aspetto importante è che questo evento ha creato una sorta di movimento, sono creati insomma tante persone appassionate a questo argomento che stanno creando un gruppo di lavoro. Esatto, sì, tutto basato sullo spontaneismo e sul situazionismo, siamo oltre 30 i ragazzi e non solo, tutti i professionisti da editor a grafici ma soprattutto autori satirici del web che gravitano intorno allo staff del satirico per cercare di dare un prodotto il più di qualità possibile.